Questo pomeriggio ha fatto tappa a Praia il viaggio lento di Biagiaccardi, un viaggio che ha come mete anche altri paesi ricompresi dal Parco Nazionale del Pollino. Un lungo percorso partito il 10 giugno scorso da Rotonda e che Biagio sta condividendo con la sua asina come età libera. Un cammino per apprezzare i paesaggi e i sapori di una terra ma anche vivere l'emozione del tempo che fu. Nell'incontrare Biagiaccardi sul lungomare Sirimarco abbiamo riflettuto con lui sul valore dell'iniziativa. Il viaggio lento nasce dopo aver letto Le ragioni dei Cantastorie. Questo libro che parlava di un poeta cantastorie siciliano che si incamminava col suo carretto, con la sua prole a seguito per tutta la Sicilia, la Calabria e addirittura la Puglia. Insomma questa visione romantica mi ha ispirato a viaggiare lento. Non è solo questa l'unica motivazione, è dare un consiglio, un monito, quello di rallentare, di tirare un freno a questo progresso che non si sa dove sta andando. Una crisi economica e dei valori quella che oggi vive la nostra società che impone di guardare verso altri scenari. E viaggio lento potrebbe divenire un evento per promuovere la terra di Calabria. Creare un percorso all'interno del Pollino per dare un'offerta che si va a immettere dentro un discorso di turismo responsabile che potrebbe essere una proposta aggiunta al Parco Nazionale, o no trekking è la parola giusta. In altre regioni già la attuano da tempo.